Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1, in viaggio verso Bologna, si segnalano code a tratti tra Monte San Savino e Incisa Reggello e rallentamenti tra Incisa e Firenze Sud. Chiusa per la notte del 6 settembre, martedì, l'uscita a Firenze in pruneta per chi proviene da Bologna. In Fipili, traffico rallentato tra Ginessa Fiorentina e Montelupo, in viaggio verso Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori, Trattavarnelle e San Donato. Prosegue l'implementazione dei cantieri a Firenze della nuova variante Fortezza San Marco della Tramvia, che riguardano Piazza della Libertà, Piazza San Marco, Viale Lavagnini, Largo Martiri delle Foibe e Viale Milton. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Buon viaggio!